Mi piace? Siete partiti. Bene, benvenuti a questo primo incontro di lavoro sulla biografia che viene a portare da Roma Silvia Brandolin. L'abbiamo incontrata già l'anno scorso in conferenza online per Antroposofia a Palermo. Anche questo seminario che si svolge in tre incontri è organizzato da Antroposofia a Palermo. Questa sera abbiamo anche la conferenza introduttiva al seminario di domani che sarà sui primi tre settenni da 0 a 21 anni sostanzialmente, domani e domenica. Silvia Brandolin svolge questa attività di counseling in biografia sulla base dell'antroposofia, è cofondatrice della scuola per la biografia, dell'associazione che tiene la scuola di biografia si chiama Arte dell'Io e Umanità e anche fa parte del collegio dei docenti dell'ente formativo Antroposofia. E io le lascio la parola ricordandovi che il nostro lavoro è volontario e vi chiediamo di darci una mano se è possibile a sostenere le spese di viaggio di chi viene a trovarci da fuori. Il prossimo incontro sarà con lei ad aprile e poi a maggio un altro, arriveranno sempre le email per ricordare le date esatte. Nel frattempo ad aprile ci sarà anche un'altra conferenza con seminario artistico, il seminario di domani sarà di tipo artistico, di lavoro sulla biografia, che terrà Rosario e Roberto. Arriveranno tutte le informazioni a termine. se non siete iscritti nella newsletter di Antroposofia a Palermo, per favore qui c'è il foglio in cui potete lasciare i vostri recapiti e sarete inseriti nella newsletter. Bene, benvenuti, lascio la parola a Silvia. Innanzitutto vi ringrazio di questa accoglienza e porto i saluti di Paola Forasacco per chiunque la conosca che è raccomandata di salutare i suoi cari amici di Palermo. ringrazio anche chi mi ha introdotto all'antroposofia, che è stato il mio medico, un medico per 18 anni, Valerio Spadini, che adesso è nel mondo spirituale, e Paola è stata l'altra colonna portante proprio di questo mio entrare nell'antroposofia. e una cosa di cui le sono molto grande è che lei ha sempre cercato di far sì che venisse portata in modo vivente, non in modo intellettualistico e in modo mentale. E questo per chi ha lavorato con lei, credo che lo abbia potuto verificare e sperimentare. Ho cercato di dare un taglio un pochino diverso rispetto alla conferenza fatta online, anche se alcune cose ovviamente verranno ridette, perché in grosso modo la biografia è quella, alcune leggi sottostanti sono le stesse, però poi vediamo anche di costruire insieme il percorso. Io sono un'amante delle frasi e degli aforismi, per cui me ne sentirete dire nel corso, e quello di apertura che ho trovato di Gandhi dice scopri chi sei e non avere paura di esserlo. E questo vale per noi e vale poi anche nella relazione con gli altri, e poi vedremo in che modo. E vorrei proprio che questi seminari suscitassero in voi il desiderio di intuire chi siete con meraviglie e gratitudine, proprio il senso della vostra vita e della nostra vita. E il tema della biografia è un tema universale, un po' come il perdono che è un altro tema a me molto caro, cioè riguarda tutti, riguarda tutti a prescindere dal genere che si ha, dalla condizione sociale, dall'etnia, dalla religione. La vita, la biografia, è proprio qualcosa che appartiene a tutti quanti. Penso che ognuno di noi abbia sperimentato dei momenti di difficoltà nella vita in cui ha incontrato se stesso. Sono magari i momenti appunto di crisi, e lì ci si trova a confrontarci e ci si pongono delle domande. Solitamente ce le poniamo proprio più nei momenti difficili che nei momenti facili, diciamo. E molto spesso la domanda che sorge è un perché. Perché mi è capitata questa cosa? Perché è sorta questa malattia? Perché questa relazione è finita? Se allarghiamo lo sguardo anche al sociale, a quello che sta accadendo, perché questa pandemia, perché è stata gestita in questo modo, perché la guerra. Sono tanti i perché che possiamo farci, ovviamente. spesso cerchiamo una causa, più che di cosa parli l'evento. Ed è l'unico da cui dobbiamo partire, proprio per trovare il senso e per trovare il nostro spazio di libertà. E proprio come diceva Goethe, non importa il cosa, importa il come. e questo ci porta proprio a cominciare ad avere uno sguardo diverso sugli eventi anche della nostra vita, quando ci è accaduto qualcosa. Cioè lasciar parlare gli eventi e chiederci appunto di cosa mi parla quello che è accaduto. Perché di fronte a determinate situazioni, oggettivamente quelle sono, non le possiamo cambiare. e quello che possiamo cambiare è il nostro modo di guardare questi eventi. E questa è un'esperienza che per esempio ci è stata ampiamente testimoniata, per esempio, è uno dei tanti esempi da Victor Frankl, che ha scritto quel bellissimo testo, uno psicologo nel Lager, in cui è arrivato a trovare uno spazio di libertà in un campo di concentramento. Questo per me è stato fulminante, perché se una persona può trovare uno spazio di libertà in quel contesto, credo che nella vita normale nostra sia sempre possibile. Ma questo proprio parte da chiedersi che cosa mi può costringere, che cosa mi rende libero. e questa è una delle cose di cui possiamo tenere presente nella nostra vita. Quindi noi abbiamo continuamente degli stimoli che la vita ci pone e possiamo osservare che anche due gemelli mozzigotti non rispondono allo stesso modo a una certa esperienza. I momenti in cui noi siamo chiamati a prendere delle decisioni, a fare delle scelte, sono i momenti in cui possiamo cogliere la nostra individualità, il nostro io. Cominciamo a introdurre appunto dei nomi che ricorreranno più volte in questi incontri. Questi momenti ci fanno sentire che noi stiamo facendo una scelta, stiamo prendendo una decisione ed è qualcosa di diverso, per esempio, da quando agiamo abitudinariamente. Questo non per dare un giudizio, perché nella nostra giornata facciamo tante azioni in modo abitudinario. Non è detto che non vada bene in assoluto, però è chiaro che se noi agiamo sulla scorta dell'abitudine oppure agiamo sulla base di ciò che altri si aspettano da noi, probabilmente il nostro io non è così tanto presente. Questa esperienza dell'io è quella che proprio ci mette in contatto con la nostra biografia, ovvero con la scrittura della nostra vita che è qualcosa che avviene continuamente. Marco Aurelio diceva che l'eco di ciò che facciamo ora risuona nell'eternità e quindi ci si apre anche questo spiraglio sull'eternità. proviamo a pensare che ciò che noi facciamo, aggiungo ciò che noi pensiamo, ciò che noi sentiamo, è qualcosa che va oltre noi stessi. Quindi possiamo decidere di essere più o meno consapevoli di come viviamo e diventare sempre più consapevoli delle qualità che ognuno di noi porta in questa vita, porta nel mondo, porta nell'eternità come abbiamo visto e di come può svilupparle grazie anche agli altri. Nel titolo della conferenza c'era appunto la conoscenza di se stessi e il maggiore interesse per gli altri e vedremo che continuamente lo sviluppo nostro è sempre in relazione e avviene anche grazie agli altri. Poi vedremo via via degli esempi. Ecco, la nostra vita è proprio, possiamo usare un'immagine della Genesi creata a immagine e somiglianza di Dio ma molto spesso ci sentiamo così lontano da questa divinità che pure è iscritta in ognuna di noi e quindi possiamo provare proprio a disseppellirla per usare un'espressione di Etichille, insomma, questa giovane ebrea olandese che parlava proprio di questo Dio che per comodità chiamava Dio questa profonda ricchezza che sentiva in sé e che poteva disseppellire per giungere proprio a intuire il senso del nostro essere qui sulla Terra. Ma guardiamo un attimo, guardiamo con uno sguardo panoramico appunto alla nostra vita per vedere come si dispiega e quali sono proprio i nostri spazi di libertà. Entriamo nel mondo fisico sensibile con il concepimento e già l'unione dello spermatozoo con l'opulo è caratterizzato da un sono ed è unico anche quello. È incredibile questo fatto. Durante la gravidanza il feto non soggiace alle leggi della gravità e questo ci pone la domanda con quali forze è in relazione durante la gravidanza? A quale mondo è congiunto? Con la nascita entra nel mondo il rompe per usare l'espressione di Hillman e comincia la sua biografia strettamente collegata agli altri e questo legame poi nel tempo cambierà e aumenteranno anche le persone con cui sarà in costante relazione. Nei primi tre settenni noi completiamo proprio lo sviluppo del nostro corpo fisico. Nel primo settenno abbiamo lo sviluppo del sistema neurosensoriale poi via via nei vari settenni queste cose ovviamente le riprenderò. Nel secondo settenno abbiamo lo sviluppo della parte del respiro quindi il sistema ritmico, il cuore e nel terzo settenno abbiamo lo sviluppo del sistema metabolico e delle membra. in tutto questo aggiungono a maturazione anche le altre parti costitutive dell'essere umano quindi abbiamo un corpo fisico che è quello chiaramente comprensibile perché visibile e tangibile abbiamo un corpo eterico e il corpo eterico è tutto ciò che è vitale che dà forma che presiede ai cambiamenti a prescindere dalla nostra volontà. e per farne un'esperienza diretta non è tangibile ovviamente però potete pensare a una piantina viva e a una piantina morta. Se voi le mettete una accanto all'altra vedete che la piantina viva ha la sua forma normalmente è nella verticalità anche la pianta e ha proprio la forma tipica della pianta la piantina morta perde la verticalità perché soggiace alle forze proprio che presiedono al mondo fisico sensibile cambia il colore fino a poi a discregarsi con il passare del tempo e questo è proprio per avere un'immagine concreta di un corpo che non è così visibile chiaramente a occhio nudo neanche con il microscopio ovviamente perché stiamo parlando di una realtà già più sottile. Questo ci dice anche che noi abbiamo una parte costitutiva che è in comune appunto con il regno vegetale e anche con gli animali. Se corro ditemelo perché va bene? Velocità? L'altra parte costitutiva che abbiamo è il corpo astrale il corpo astrale macroscopicamente possiamo dire che è il corpo delle emozioni delle sensazioni che si muove proprio tra simpatia e antipatia e questo lo abbiamo in comune con il mondo animale anche nel mondo animale c'è il sentire e poi abbiamo il nostro io allora vedremo meglio domani il corpo eterico si dischiude nel secondo settenio è presente fin dalla nascita ovviamente perché abbiamo parlato di forze vitali e di forma ma è come se giungesse a piena maturazione dal secondo settenio il corpo astrale nel terzo e dal quarto settenio abbiamo appunto l'io e cos'è il nostro io vi proporrei un piccolissimo esercizio per realizzare anche questo che cos'è il nostro io vi chiedo di pensare alla vostra vita adesso ponendovi queste tre domande semplici dove vivete e abitate con chi e che lavoro fate immagino abbiate tutti pensato a questo adesso torniamo indietro di sette anni e siamo nel 2015 le domande sono le stesse quindi dove vivevate e abitavate con chi e che lavoro facevate o che attività ci siete tutti proviamo adesso ad andare ancora indietro di sette anni e ora siamo nel 2008 le domande sono le stesse quindi dove vivevamo con chi e che lavoro attività svolgevamo e un'ultima volta nel 2001 quello che immagino abbiate sperimentato tutti quanti è che certamente in 21 anni perché siamo andati indietro di tre sette anni ci sono stati sicuramente dei cambiamenti quello che però anche immagino abbiate sperimentato è che nonostante i cambiamenti intervenuti che possono essere geografici di relazione di attività tutto quello che volete voi eravate sempre voi stessi e questa è proprio una tangibile esperienza dell'io l'io è proprio la parte più sacra la portatrice del senso della nostra vita quella con la quale cogliamo le intuizioni possiamo riflettere su noi stessi e che ci permette proprio di coglierci come esseri individuali in continua trasformazione perché con questo piccolo esercizio avete colto le trasformazioni che ci sono state proprio grazie alla vostra volontà l'io è l'elemento eterno dell'essere umano ci accompagna di vita e vita come il nostro angelo custode quindi vediamo che siamo in relazione anche con il mondo spirituale e con un prima e con un dopo e perché parlo di prima perché finora abbiamo parlato di questa vita cioè dal momento del concepimento in poi ma da dove veniamo come possiamo essere sicuri che ci sia stato un prima io devo confessare che per anni non ero affatto affatto convinta dell'idea della reincarnazione anzi discutevo molto animatamente con mia madre che invece la consideravo un'ipotesi plausibile io chiaramente ero molto più giovane e dicevo no una vita basta ranza un'altra proprio no non esiste e poi quando ho incontrato l'antroposofia è una cosa di cui Steiner una cosa che Steiner proprio ci porta a riflettere di non assumere per fede quanto lui dice ma di sperimentarlo e quindi ho cominciato proprio a pormi delle domande banali perché quando io conosco una persona nuova provo una simpatia antipatistintiva la persona non mi ha fatto niente oppure conosco una persona e dopo pochissimo tempo che parlo con lei ho la sensazione di conoscerla da sempre così come mi è capitato nel lavoro di sentire al telefono una persona che questa mi raccontasse delle cose anche molto personali non ci eravamo mai visti oppure perché in un certo luogo io sto bene e in un altro mi sento a disagio luogo nuovo e vi ricordo la prima volta che andai a Milano io provai un senso di disagio enorme era la prima volta che andavo lì non mi aveva fatto niente quella città quindi oppure come mai ho delle abilità dei talenti e questo lo possiamo osservare anche nei bambini chi ha particolari predisposizioni quando ancora non li ha esercitati in questa vita allora ho cominciato a pensare che la reincarnazione poteva essere la risposta e provando a considerarla come pensiero le cose cominciavano a tornare questo non per voler convincere alcuno di voi è soltanto proprio un possibile processo di pensiero di riflessione dunque per comprendere bene da dove veniamo dobbiamo andare a ritroso ovvero la fine della nostra vita precedente e vedere che cosa accade quando noi moriamo le parti costitutive cambiano la loro relazione tra loro nel senso che il corpo eterico il corpo astrale e l'io si distaccano dal corpo fisico anzi a essere sinceri si muore proprio perché avviene questo distacco e quindi la morte è una conseguenza questi tre corpi si distaccano e accade che i primi tre giorni il corpo eterico è il corpo in cui è impressa la memoria la persona che è morta rivede tutta la sua vita a ritroso queste sono anche esperienze che sono state raccontate in caso di coma profondo persone che hanno rivisto la loro vita a ritroso e un tempo nella saggezza popolare non si faceva il funerale il giorno dopo si aspettavano tre giorni prima di fare il funerale o i riti religiosi questo si trova in diverse culture e si vegliava la salma e chi ha potuto fare questa esperienza ha proprio anche potuto vedere come il corpo cambia in questi tre giorni come se ci fosse quasi una pacificazione una distensione dei tratti del volto e poi accade che questo corpo eterico si stacca dalle altre due parti torna nel lettere cosmico e rimangono un corpo astrale e l'io a questo punto succede che di nuovo il corpo di nuovo viene rivista tutta la vita a ritroso ma questo a volta non più dal punto di vista nostro diciamo che l'abbiamo vissuta bensì come fossimo immersi in tutte le persone con le quali siamo stati congiunti con le quali abbiamo interagito che abbiamo incontrato e lì si sperimenta che cosa noi abbiamo creato in loro e questo può essere un motivo di meraviglia perché io credo che tutti noi agiamo beneficamente sull'altro senza magari neppure renderci conto semplicemente magari facendo un sorriso a una persona che incrociamo per strada o facendo una gentilezza e noi non possiamo sapere che cosa stiamo creando nell'altro ovviamente oppure realizziamo il dolore e la sofferenza che abbiamo creato nell'altro e chiaramente in quel momento la consapevolezza è di essere appunto desti a questa cosa e di voler anche riparare a questo dolore che abbiamo inferto in qualche modo e questo tempo di purificazione si chiama purificazione perché è il tempo in cui anche vengono in un certo senso sciolte tutte le brame e per brame qui intendiamo tutti i desideri che non nella vita abbiamo avuto ma che non erano legati allo sviluppo spirituale il fumo per fare un esempio o l'alcol cioè desiderare migliorare una cosa sana se però per me il cibo diventa quella brama per cui è veramente qualcosa che mi consuma può essere il fumo può essere l'alcol possono essere tante cose chiaramente queste attività hanno bisogno di un corpo fisico per essere svolte ma nel mondo spirituale noi non abbiamo più un corpo fisico per cui è come se ancora vivessimo quel desiderio ma non abbiamo più gli organi per poterlo realizzare quindi in questo senso si parla di purificazione e in grosso modo dura un terzo della nostra vita o il tempo corrispondente a quanto abbiamo dormito io avrò un camalocca lunghissimo perché dormo tanto e quindi in questo periodo appunto terminato questo periodo anche il corpo astrale si stacca dall'io e l'io continua il suo viaggio nel mondo spirituale e accenno soltanto che c'è proprio un percorrere tutti le sfere planetarie dove per sfere planetarie non dobbiamo pensare ai pianeti morti ma ogni pianeta è abitato da esseri spirituali quindi il viaggio che compiamo è proprio nell'ordine luna mercurio venere poi il sole e poi Marte giove saturno compiuto tutto questo lungo viaggio vi cito i pianeti perché poi i pianeti li ritroveremo nella biografia perché ogni pianeta ha un'influenza particolare sui sette anni della nostra vita e a quel punto siamo nella cosiddetta mezzanotte cosmica è il momento in cui noi desideriamo tornare sulla terra perché soltanto sulla terra noi possiamo sperimentare la libertà nel senso che nel mondo spirituale noi abbiamo un processo proprio di sviluppo e di crescita che sono l'essenza dell'io e tutto ciò che noi abbiamo vissuto qui sulla terra come frutto diventa un seme nel mondo spirituale è interessante questo processo dal frutto al seme proprio nel mondo spirituale ma non possiamo agire alla libertà quello è qualcosa che possiamo agire qui sulla terra e due sono i motivi che ci portano a desiderare di tornare qui sulla terra appunto di nuovo poter agire nella libertà e poter riparare a tutto il male che abbiamo fatto e di cui siamo diventati consapevoli e si sente proprio un'attrazione verso la terra in tutto questo percorso che io sto semplificando molto noi siamo accompagnati dal nostro angelo custode che è sempre lo stesso di vita in vita e dalle gerarchie spirituali con le quali proprio siamo in relazione con le quali intessiamo il nostro nuovo progetto di vita e poi compiamo il percorso inverso sempre in senso planetario e torniamo a incarnarci nel momento in cui stiamo per appunto incarnarci noi vediamo tutte le prove che ci siamo scelti perché parlo di prove perché quello che qui noi viviamo appunto come una prova una difficoltà in un'ottica spirituale è un'occasione che ci siamo scelti per sviluppare qualcosa che evidentemente abbiamo riconosciuto che ci mancava e quindi l'ottica è completamente rovesciata se ci pensiamo bene e qui ci lamentiamo di determinate situazioni che ci creano difficoltà se riuscissimo veramente a congiungerci con il motivo per cui l'abbiamo scelto o comunque congiungerci col fatto che ha un senso diverso e probabilmente le difficoltà ci sono le viviamo le soffriamo ma hanno una portata e un significato diverso e questo ci può dare anche più serenità nell'affrontarle nessuna vita è priva proprio di di ostacoli e di occasioni oserei dire per poter crescere e maturare e il dolore che abbiamo inflitto diventa qui proprio una spinta un desiderio a incarnarci quindi anche qui c'è un rovesciamento dell'ottica infine tra la morte e la nuova nascita l'uomo l'essere umano spirituale si occupa anche della terra e non vediamo adesso proprio nel lavoro che compie nei defunti però possiamo dire che lavorano proprio alla terra e sono congiunti anche con la natura e quindi questo se noi proviamo a pensare ogni tanto questa realtà spirituale anche questo ci può far sentire una relazione con i defunti diversa e anche di gratitudine per quello che fanno ricordo una volta una persona che disse quando si dice eterno riposo donna loro signore disse se sapessero quanto lavorano i defunti di là altro che riposo perché c'è proprio un lavoro incessante che cosa accade che ogni notte quindi noi ci addormentiamo il sonno viene anche chiamata la piccola morte e in modo microscopico facciamo quello che avviene dopo la morte in che senso torniamo il corpo astrale e il dio vanno nel mondo spirituale l'eterico rimane ovviamente collegato con il fisico e vanno nel mondo spirituale come proprio nutrimento come il corpo fisico ha bisogno delle sostanze con cui ci nutriamo anche la nostra parte spirituale ha bisogno di nutrimento e sempre accompagnati dal nostro angelo noi riguardiamo alla giornata che abbiamo trascorso e pianifichiamo anche la nuova giornata allora come possiamo diventare non so se gli è mai successo tra l'altro di addormentarli avere proprio la percezione se il sonno si alleggerisce proprio nelle prime fasi di avere la percezione delle immagini della vostra giornata che avete trascorso non so se avete mai fatto questa esperienza allora come possiamo collaborare con quanto avviene inconsapevolmente perché chiaramente quando noi dormiamo tutti i nostri sensi sono spenti e non abbiamo più coscienza di quello che avviene ed è proprio questo curare questi due momenti importanti di soglia l'addormentamento e il risveglio prima di addormentarci sarebbe una cosa utile per tanti aspetti pavigliano quali rivedere la nostra giornata quella che si chiama normalmente la retrospettiva cioè guardare la nostra giornata come se fossimo su una collina e guardassimo che cosa ha fatto quella persona chi è incontrato quali sono state le relazioni che ha avuto e allora lì può capitare che ci rendiamo conto che abbiamo avuto magari una discussione con il nostro collega ma nel momento in cui non siamo più così congiunti con l'azione vediamo che magari il nostro collega aveva ragione ma ci ha preso in un momento un po' storto e abbiamo reggito male questo può capitare con il nostro compagno i nostri figli la compagna con qualunque persona nella giornata può capitare che ci sia qualcosa in cui reagiamo male oggi mi era arrivata un'immagine una battuta che diceva se pensi di essere senza peccato guarda meglio mi ha fatto tanto sorridere a per cui da snup però tante volte uno dice ma è andato tutto bene però forse se osserviamo bene non dalla nostra ottica ma magari pensando anche alle persone con le quali abbiamo interagito possiamo cogliere qualcosa e qui è proprio osservare la nostra vita per immagini cioè non siamo più congiunti all'evento e proviamo ad adottare lo sguardo solare di cui parlerò anche nei giorni prossimi e negli altri settenni perché è importante questo sguardo solare perché una delle cose che possiamo tendere a fare è di giudicarci e quando vediamo qualcosa che non è andato bene facilmente scatta il giudizio su di noi lo sguardo solare il sole illumina tutti illumina buoni belli cattivi brutti ha proprio questa visione dall'alto e nel momento in cui noi osserviamo le cose della nostra vita con questo sguardo di nuovo le facciamo parlare non c'è più la nostra interpretazione nel momento in cui io entro in un giudizio in un'interpretazione io perdo il legame con la cosa obiettiva perché entra un elemento dell'anima e quindi questa retrospettiva fatta in questo modo magari si può iniziare all'inizio a vedere soltanto un piccolo pezzetto della giornata o soltanto un evento perché anche lì è un esercizio che va proprio praticato per poterlo portare a termine serenamente senza fustigazioni sensi di colpa giudizie via dicendo che possono scattare ma in questo modo compiamo qualcosa che poi nella notte appunto compiamo con il nostro angelo e ugualmente possiamo anche avere una preoccupazione per un'attività che dobbiamo svolgere il giorno dopo e provare proprio a congiungersi con questa attività affidandola al nostro angelo con il quale poi appunto intessiamo la giornata successiva parlavo dei due momenti importanti l'addormentarsi e il risvegliarsi un'altra cosa che possiamo portare nella notte se abbiamo è una domanda e a risveglio se non ci precipitiamo giù dal letto perché dobbiamo correre se proviamo a stare qualche minuto in silenzio è possibile che ci arrivi la risposta o anche se ci alziamo ma cerchiamo di rimanere comunque congiunti all'esperienza della notte ci può arrivare un'intuizione ci può arrivare appunto una risposta magari non arriva il giorno dopo magari la domanda va portata più volte questo per dire che non è una questione meccanicistica ovviamente e sono proprio due soglie importanti sono anche due soglie che ci parlano del fatto che c'è una biografia del giorno che è quella in cui tutti noi viviamo desti di cui siamo consapevoli ma c'è anche una biografia della notte ed è anche quella importante un altro aspetto che volevo sottolineare è proprio la relazione che noi abbiamo nella nostra vita con le persone che incontriamo e chiaramente con il mondo e con il cosmo perché nel momento in cui noi la notte siamo nel mondo spirituale siamo inseriti proprio nell'ambito del cosmo e questa è una riflessione che può portarci proprio ad allargare il nostro sguardo e poi ritorno alla frase di prima di Marco Aurelio che parlava di eternità quindi provare a pensare come accennavo prima che tutto ciò che noi pensiamo sentiamo e agiamo non solo ha delle conseguenze qui nell'ambito fisico sensibile ma anche delle conseguenze nel mondo spirituale e questo non deve portarci a uscire gravati da questa riflessione ma pensare che possiamo essere responsabili e decidere anche di scegliere quali pensieri avere mi ricordo una persona che diceva ma i pensieri entrano come faccio a decidere quali pensieri avere allora è vero che certi pensieri ci entrano e non è che dobbiamo dire oddio mi è entrato un brutto pensiero adesso come faccio così il sentire possiamo avere di fronte a un racconto un sentimento di invidia lo abbiamo provato non è che possiamo far finta di non provarlo però possiamo decidere che cosa porre accanto a quel pensiero o accanto a quel sentimento allora se io ho un pensiero negativo su una persona un pensiero di critica per esempio chiedermi quella persona che io sto criticando quali qualità positive ha e questo richiede un'attività dell'io perché devo voler fare questo tipo di pensiero diverso pensiero costruttivo diciamo e lo stesso per i sentimenti l'invidia chiaramente non parla dell'altro parla di quello che io sto provando l'ho trovata va bene ne siamo consapevoli come posso trasformare questa invidia o posso interrogare questo sentimento che cosa fa a scattare in me l'invidia ecco di che cosa mi parla qual è la cosa cioè io invidio una qualità che questa persona ha perché se io invidio una qualità posso attivarmi per cercare di coltivarla invidio una casa invidio una macchina cioè provare proprio a entrare in dialogo anche con i nostri sentimenti e questo fa sì che noi possiamo decidere di appunto purificarli di educarli in un certo senso e non essere come dire tiranneggiati da questi sentimenti dicevo prima che noi appunto la nostra vita viene da molto lontano tutto quello che avviene prima della nascita è il tema dell'innatalità di cui si parla poco ma che è fondamentale perché è l'altro aspetto dell'essere umano il tema dell'immortalità forse ci è più noto ma sono fanno tutte parte appunto dell'essere umano quindi dicevo che vogliamo incarnarci per essere persone più libere l'anedito alla libertà è un anedito proprio iscritto nell'essere umano per divenire sempre più umani più liberi più umani viene in tessuto con noi e le gerarchie e il nostro angelo questo progetto ma nel momento in cui noi ci incarniamo dimentichiamo tutto ci sono dei momenti nella biografia in cui possiamo di nuovo intuire qual è il senso della nostra vita e questi momenti sono i cosiddetti nodi lunari che accadono nella vita ogni 18 anni 7 mesi e 9 giorni sono momenti in cui immaginativamente possiamo dire che il mondo spirituale è più vicino all'essere umano o che come dire si apre per farci proprio intuire questo compito e il nodo lunare si chiama così proprio perché è una specifica relazione tra la terra il sole e la luna ed è la stessa relazione che avevano quando noi siamo nati noi cresciamo grazie agli altri in tutti i sensi lo vedremo in particolare domani quando parleremo dei primi tre anni dell'essere umano e grazie a chi incontriamo diventiamo ciò che siamo diventiamo ciò che siamo anche grazie alle persone che ci danno particolarmente fastidio perché se entriamo nella comprensione del fatto che noi abbiamo scelto di incontrare quella persona che ci dà fastidio ci potremmo chiedere quali qualità ci sta stimolando a sviluppare e se noi accogliamo questa sfida e diventiamo più umani e miglioriamo questo accade proprio grazie alla persona che particolarmente ci infastidisce o ci fa soffrire o non ci comprende nel momento in cui c'è per esempio una relazione genitore figlio caratterizzata dalla grande incomprensione il figlio crescendo può cercare a sua volta diventato lui genitore o comunque nella relazione con altri più giovani proprio di sviluppare quella capacità di comprensione che non ha vissuto nella sua vita è una possibilità e questo se voi pensate magari a situazioni appunto o a persone che mi hanno particolarmente fatto soffrire potete chiedervi che cosa vi offrivano come possibilità di sviluppo possibilità evolutiva se la cosa è passata non è persa ecco questo è importante dirlo uno dei respiri che la biografia mi ha sempre dato è che vedremo che ci sono delle leggi biografiche vedremo che certe cose accadono nei settegni nei specifici settegni ma quello che non abbiamo sviluppato in quel settegno lo possiamo recuperare anche 30 anni dopo può essere più impegnativo perché chiaramente non avviene nel momento di sviluppo naturale ma quello che proprio ci conduce a sviluppare appunto questa qualità è il nostro io dipende proprio dalla nostra volontà da decidere appunto di voler coltivare determinate qualità e questo è molto importante perché ci pone sempre nella condizione di poter cambiare e solo l'uomo può decidere di cambiare chi ha strette relazioni con gli animali può osservare che anche l'animale cambia cambia addirittura nella sua istintività ma cambia in relazione all'essere umano non cambia perché ha un suo io solo l'uomo ha un io per cui può cambiare quindi è diverso chiaramente il risultato c'è un tempo per prendere e un tempo per dare così si può parlare nella nostra biografia di un'inspirazione e di un'ispirazione fino ai 35 anni si può parlare di ispirazione nel senso che noi accogliamo quanto ci viene dato dagli altri dalla vita dalle situazioni dai 35 anni in poi inizia la fase di ispirazione cioè di tra virgolette restituire al mondo quanto abbiamo avuto vedremo poi ad aprile che si parla mentre i primi tre settegni hanno diciamo un andamento simile per tutti dopo soprattutto dai 35 anni e dai 42 anni ancora di più tutto quello che avviene avviene se non lo vogliamo cioè c'è proprio una relazione diversa anche con il mondo spirituale e quindi vediamo anche gente che invecchia e che invece è sempre più legata alla materia per esempio e che non vuole restituire un bagniente anzi vuole continuare ad accumulare con molta pupitigia e con questa grande paura magari di lasciare la vita e quindi si attacca in tutti i modi ai beni al lavoro e via dicendo lo vedremo più avanti però anche nel lavoro quanto è importante quando si comincia per esempio a insegnare di più ai giovani come fare certe cose eccetera comunicare le proprie esperienze condividere e una volta che ne parlavo con una mia collega lei mi disse che sì ma l'informazione è potere quando è rimasta dico e dunque dice no non si dicono le cose agli altri perché io so delle cose che l'altro non sa e a me ha colpito molto ma come tutte le cose che colpiscono possono diventare oggetto di riflessione allora è vero lo vediamo anche nella comunicazione che è potere però a quale potere vogliamo collegarci a me quel potere personalmente non interessa un'altra cosa che mi destò molto parlavo una volta con un collega che aveva da poco compiuti 63 anni dopo il quale Steiner dice abbiamo terminato i nostri compiti legati al nostro destino cioè i compiti che ci eravamo scelti prima di nascere il che non può dire che la nostra vita diventi improvvisamente inutile tutt'altro anzi entriamo proprio nella fase della gratuità del dono quindi di quello che noi possiamo fare allora gli chiesi tu hai intuito qual è il senso della tua vita dico ma senza che tu me lo debba dire perché chiaramente può essere anche una cosa molto intima e questa persona candidamente mi disse ma io veramente non ci ho mai pensato e anche lì ho detto come è possibile perché questo è un tema che incontreremo proprio domenica col terzo settennio però il fatto che questa persona l'abbia detto vuol dire che è possibile che uno non abbia mai riflettuto fino a quel momento spero che negli anni dopo l'abbia fatto per il suo bene ecco qual è il senso della mia vita è chiaro che quando siamo piccoli è una domanda che non ha senso è una domanda che si può porre soltanto un io interrogante ma è chiaro anche che è una domanda che si può eludere perché può essere difficile scoprire che noi intuiamo un senso abbiamo fatto una vita diversa da quello che poteva essere il senso della nostra vita allora lì bisogna vedere quanto noi abbiamo un'idea di quello che secondo noi sarebbe stato il senso della nostra vita per esempio non mi dissi io volevo studiare medicina mio padre mi ha fatto studiare legge ma questo non vuol dire che la vita non abbia un senso uno può anche sacrificare incontrato una persona che interrompe gli studi perché la famiglia aveva bisogno del suo aiuto lui dovrebbe andare a lavorare eccetera ci può essere anche un sacrificio di un desiderio di istruzione eccetera ma questo ha un senso nella vita di una persona ovviamente oppure rendersi conto che è il momento di cambiare qualcosa perché effettivamente la Michela ci riferiva proprio di un dirigente d'azienda che stava in macchina sfrecciando con due telefoni perché è quello dell'ufficio e un certo punto si ferma e realizza che quella non è la vita che voleva fare dopodiché torna al lavoro decide di mettersi in pensione non c'era la legge Fornero evidentemente quindi si mette in pensione e poi si è messo proprio a fare attività di volontariato questo per fare un esempio però qualunque scelta che noi facciamo qualunque scelta che non abbiamo potuto fare può essere comunque illuminata dalla consapevolezza e comunque dare un senso a questo sicuramente ogni vita ha un senso ogni vita porta un colore in questo mondo questo è sicuro chiaramente più ne siamo consapevoli e più possiamo contribuire a questo nostro compito sempre in relazione appunto con gli altri biografia autobiografia lo accenderò anche domani noi naturalmente tendiamo a ragionare sulla base di ciò che abbiamo fatto ciò che abbiamo vissuto però la nostra vita è anche nel futuro ovvero la realizzazione del senso della nostra vita che è stato progettato ci chiama continuamente dal futuro e quindi dobbiamo anche lì considerare che c'è una corrente che viene dal passato ed è anche la corrente ereditaria e c'è una corrente che ci chiama dal futuro e in fondo è quella verso la quale stiamo andando però bisogna anche di questa di venire consapevoli e chiedersi quando mi accade qualcosa che relazione ha con il futuro e con quello che io mi sono prefisso di compiere prima di incarnarmi facevo l'altra volta nella conferenza un esempio concreto ed era questo voi non siete venuti qui come conseguenza dell'aver preso la macchina o dell'essere venuti a piedi eccetera siete venuti qui perché c'era uno scopo ed era ascoltare la conferenza e quindi si rovescia il pensiero causale perché altrimenti uno potrebbe dire siete qui perché avete preso la macchina cioè è il portato di un'azione passata è esattamente il contrario era un qualcosa del futuro che vi ha portato a compiere delle azioni non so se l'esempio sia stato chiaro si tratta di guardare alla nostra vita con occhi nuovi questo sempre io concluderei con questa frase di un credo sia un frate si chiama Frater Michael Davide che tra l'altro ha scritto un libro proprio di accompagnamento alla quaresima citando proprio i brani del diario di Etty Hill e Zoom si tratta della fatica quotidiana di vivere presenti alla storia ma a un livello di profondità e ampiezza che non ci renda vittime di essa ma animatori del suo fluire verso il bello il buono e il vero e proprio di buono bel vero parleremo nei prossimi due giorni perché vedremo che questi sono proprio le anelite del bambino e poi del ragazzo nei primi tre settemni c'è tanto altro da dire io mi fermerei e se avete delle domande volentieri parliamo grazie 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 domani 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 ci vediamo domani ci vediamo domani ci vediamo domani ci vediamo io ci vorrei chiedere il titolo del libro di Vittor Franck uno psicologo nel lager ah ecco grazie il dottor Franck era uno psichiatra poi è stato il fondatore della loboterapia ah ecco si è già incontrato si è possibile e lui racconta nella prefazione di un libro che lui passava proprio la sua terapia sul senso della vita unico individuale delle persone allora dice che veniva una persona si lamentava di tutto quello che viveva certo evidentemente aveva anche compreso che poteva porre questa domanda e diceva lei perché non si ammazza allora e proviamo a pensare a una domanda del genere e le persone cominciavano a dire beh vabbè per questa cosa per quest'altra e in base alle risposte che i pazienti davano lui tra virgolette costruiva la terapia per quel paziente e un'altra volta una signora lo chiamò nel cuore della notte e lo tenne al telefono per due ore dicendo che voleva suicidarsi e lui appunto la trattenne al telefono e poi disse comunque signora continuiamo domani a studio la signora un giorno dopo è andata a studio e gli ha detto guardi io non mi sono suicidata ma non per quello che lei mi ha detto ma perché lei mi ha ascoltata e questa cosa mi fa tanto riflettere sulla necessità di ascoltare gli altri quanto le persone hanno bisogno di essere ascoltate soprattutto in questo tempo dopo questa chiusura che c'è stata una volta una volta si vedono persone che basta niente che iniziano a parlare no? proprio esserci per l'altro quanto è importante questo ed è terapeutico cioè questa signora era quello che di fatto testimoniava sentirti dire la parola la merito la libertà che ci porta ci stima a scaraventarci ancora una volta giù sulla terra sembra una contraddizione perché poi di fatto viviamo nella certezza di non essere vivere di non poterci muovere cioè è una come dire è necessario formarsi per poter ricongiugersi a questo merito cioè se nessuno se non lo scopriamo se non ce l'ho da dire nessuno la mamma non lo sa papà tu hai messaggio dal lavoro la maestra non l'ho mai sentito dire al catechismo non ci andiamo più cioè diventa veramente difficile vivere perché ci sentiamo nella gabbia sì sentirsi nella gabbia però può far sorgere il desiderio di voler uscire dalla gabbia il problema è quando uno è in gabbia e non ci si sente quello è il problema parlavo però della scintilla divina che è in ognuno di noi domani riprenderò il tema del fatto ognuno di noi entra nel mondo col desiderio di configurare la propria vita e questo a volte viene diciamo soffocato ma ci sono momenti della nostra vita in particolare il terzo settenno in cui questo anelito si risveglia e ogni volta che tu rifiuti un'ingiustizia o rifiuti qualcosa che senti che va contro di te quello è un anelito alla libertà dopodiché determinate situazioni di ingiustizia le abbiamo dovute subire tutti quanti ma come non le viviamo e lì passa la nostra scelta di libertà nella situazione di lockdown c'era gente che malediva questa cosa altro a dire io questa situazione chiaramente la subisco tra virgolette ma come decido di viverla come impiego quel tempo come mi rapporto agli altri perché non ci potevamo vedere ma potevamo per esempio telefonare alle persone e decidere di prenderci cura di chi più ne aveva bisogno oppure potevamo decidere di rallentare la nostra vita e lasciare spazio a qualcosa che magari emergeva da noi oppure potevamo dedicarci a letture oppure pregare meditare ci sono tanti ho fatto un esempio adesso ovviamente anche il modo di andare in macchina può costituire un esercizio di libertà di fronte a uno che mi taglia la strada e il primo impulso non è certo tanto porgo l'altra affiancata però di dire ma beh forse se quello fa così io a volte dico se sei contento così vai ti basta poco va bene però lì cambia proprio è un esercizio perché non mi riesce sempre però è un esercizio proprio di modificare la reazione solo se io lo voglio cioè è un'azione libera perché io voglio andare in una certa direzione è chiaro che l'istinto mi porterebbe a reagire in altro modo ogni volta che io supero l'istinto diciamo metto in atto un piccolissimo gesto di libertà certo prima di conseguire la libertà pienamente in tutti i sensi a me ci vorrà più di una vita parlando personalmente ecco però siamo in cammino e tutto ciò che conquistiamo in termini di libertà ce lo portiamo anche nella vita successiva non è che partiamo da zero tanto che incontriamo persone che sentiamo essere più avanti di noi su questo cammino e ne vediamo altri che ancora devono magari pensare a che cosa sia la libertà sono nell'edito la libertà ci affascina anche il desiderio di amare di essere amati diventare più umani è proprio questo in fondo il progetto evolutivo è di diventare come Dio Giovanni nel Vangelo dice voi siete dei sì noi abbiamo la scintilla di Dio ma io non posso dire di essere Dio per come sono adesso è proprio questo svilupparci nell'amore in fondo quando noi facciamo un'azione assolutamente gratuita e di amore verso una persona come ci sentiamo dentro decisamente bene ci sentiamo decisamente meglio che a reagire nel male e quindi è chiaro che se riuscissimo sempre ad amare abbiamo avuto l'esempio di qualcuno che i miei anni fa è venuto sulla terra e ci ha dimostrato come si può amare se riuscissimo ad amare incondizionatamente saremo un altro grado di evoluzione però abbiamo tante vite per arrivarci insomma l'importante è avere anche chiaro una meta Christian Morgenstern diceva chi non ha una meta non ha una via perché non sa dove andare avere una meta è qualcosa insomma tutti pensierosi tutti pensierosi ecco mi ha colpito il fatto che poco prima che iniziassi a parlare ci eravamo lasciati proprio la sensazione di stregnamento che io provo in questa fase della mia vita proprio in relazione a quello che avevi detto poco anzi e cioè che adesso sto passando da parte della mia vita dove era più una fase diciamo dove io assorbivo che tu hai chiamato appunto una fase di ispirazione e che adesso devo cominciare a ispirare cioè a restituire ciò che per 40 anni abbondanti ho assorbito e diciamo mi ha colpito molto perché sono attualmente proprio in questa sono esattamente in mezzo al guado adesso esattamente tra l'ispirazione e l'aspirazione e la nascita del tuo io spirituale che viene a 42 anni cioè la manifestazione da qualche mese ma sei già nel 42esimo anno però ah quindi non me la scanto no no insomma non la scanto già sono proprio qualcuno beh insomma lo vedremo più avanti ma sì non sarà quello di questo il tuo io spirituale può essere anche un anno di crisi nel senso che ci pone sempre più a contatto con i nostri compiti può essere un anno in cui uno fa delle scelte anche importanti per la propria vita quindi può è sempre una possibilità soprattutto dal 42esimo anno di scontatto non c'è più nulla l'abisso della libertà anche è questo quindi le cose vengono se le vogliono eh sì dal 42esimo anno poi certamente certe cose ti verranno incontro perché le hai decise io su alcune cose non so quanto sia una decisione appresa prima penso per esempio ad attentati o situazioni di questo genere però qui entriamo proprio nel mistero del destino quindi eh sì cioè sempre più la chiamata proprio la libertà è essere pienamente te stesso dal 42esimo anno quindi può credere che in questo momento in cui appunto si prepara la nascita dell'io si cade in uno stato di crisi profonda sì è capitato di assistere cioè le varie decine persone in questa fascia di età proprio hanno vissuto una crisi profondissima ma come mai complicato beh intanto bisognerebbe conoscere bene la situazione però è come se si venisse diciamo stimolati ma non mi piace come termine benissimo benissimo più portati a essere congiunti con il nostro ideale per il quale siamo venuti sulla terra ma magari abbiamo fatto delle scelte di vita che ci hanno portato più distante da quel progetto e allora si sente che c'è qualcosa che non va in termini profondi e lì bisogna vedere appunto quali scelte fare quali decisioni prendere e come dicevo prima uno può anche decidere di rimanere in una certa situazione ma farlo consapevolmente farlo in un altro modo è un po' come quando uno dice il matrimonio non va ci si può separare o si può cercare di fare un percorso per vedere che cosa è cambiato quali erano le cose di prima che univano le persone come queste si sono trasformate se sia possibile continuare insieme questo percorso nel reciproco rispetto favorendo la crescita non solo personale ma anche dell'altro perché in fondo questo dovrebbe fare un rapporto d'amore non soltanto pensare alla crescita personale allora molte volte nel momento di crisi uno si separa divorzia o l'uomo invecchiando cerca la relazione con la donna più giovane eccetera lo vedremo nei seminari più avanti a maggio oppure fare altro allora lì può essere anche congedare un impulso un giovanilismo che andando avanti con gli anni non c'è più come mai tante persone vanno in palestra tante donne si rifanno la faccia le cose eccetera perché c'è magari la difficoltà essere in armonia con l'invecchiamento che è ineluttabile io scherzando dico sempre l'unica certezza che abbiamo è la morte e che invecchiamo se moriamo in età avanzata ovviamente però un conto è accettarlo e comprendere anche qual è l'aspetto positivo di questo perché a fronte di un corpo che invecchia potrebbe esserci uno spirito che ringiovanisce allora tutti noi forse avremo esperienza di persone anziane luminose proprio che irrangiano luce se questo processo io non lo secondo ma grazie appunto all'impegno e alla crescita spirituale cado nella materia e allora mi sento la vita a sfuggire e allora ho paura e allora mi cerco la ragazza più giovane o mi tingo i capelli e mi rifaccio tutto il volto le cose perché io non posso invecchiare oppure mi metto in competizione con la figlia adolescente e mi vesto come lei peccato che magari ho 30 anni di più però succede e questo non lo dico con un senso di giudizio lo dico come di cosa parla una situazione del genere sono possibilità domani inizieremo alle 9 930 930 13 16 18 allora io un problema tecnico posso dire siccome le 10 ci sono più grave nella chiesa vicino a un giugnanzia molto cara potrei venire con uno del teatro per me non c'è un problema posso fare questo perché è successo all'improvviso nella chiesa di Santa Teresa che è proprio qua via battagone quindi posso venire direttamente dopo e magari mi faccio una piccola sintesi sì intanto faremo una pausa a un certo punto magari se vieni nella pausa sì ti facciamo una sintesi bene allora io direi che intanto ringraziamo Silvia per questa presentazione che ha fatto densissima i contenuti densissima sei riuscita a condensare una quantità incredibile di informazioni e alcune non le ho date questa bene e soprattutto perché non so tutte le persone che non conosciamo quanto ne sappiano di antroposofia e di visione dell'uomo antroposofica grazie per il lavoro però ecco io prego se qualcosa non è chiaro per favore ditemelo cioè ho cercato proprio di portare